Sono Tiziana Bacolini, candidata a sindaca per Nonantola alle prossime elezioni amministrative dell'8 al 9 giugno. Lo slogan della mia campagna elettorale sarà Camminiamo insieme, che non è solo uno slogan ma vuole rappresentare il rapporto che io credo debbano avere le istituzioni con i cittadini, un rapporto continuo di informazione ma anche di confronto perché le istituzioni hanno bisogno dei cittadini così come i cittadini hanno bisogno di potersi riferire ed essere rappresentate dalle istituzioni.